Ben trovate e bentrovati all'oroscopo all'almanacco. Oggi si festeggia San Pietro Claver. Per l'aforisma, nell'amore, la lontananza avvicina e talvolta la vicinanza allontana. Sembra un po' la citazione di Modugno, nella lontananza spegne fuochi piccoli e accende quelli grandi. Per i compleanni è nato oggi a Londra l'attore Hugh Grant nel 1960. Tra i suoi successi, quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill è il diario di Bridget Jones. Dall'Ariete ai pesci, siamo addirittura con il nostro oroscopo. 9 settembre. Ariete, la vostra capacità di essere estroversi vi rende sempre più graditi all'ambiente che vi circonda. Una trattativa sul lavoro è ben avviata verso una proficua soluzione, ma ci sarà ancora qualche piccola battaglia da vincere. Toro. Non abbiate timore di esprimere i vostri sentimenti. La spontaneità vi aiuterà a trovare il gusto delle cose autentiche. Una serata appagante riscalda le vostre emozioni. Imprevisti nel lavoro, le cose però si muovono nella direzione più giusta. Gemelli. Vi sentite attratti da qualcuno che vi sfugge. Dichiaratevi apertamente e avrete una bella sorpresa. Una scelta lavorativa vi lascia indecisi, combattuti. Non rimandate a domani ciò che potreste fare oggi. Cancro. Possibilità di far fruttare un'ottima lucidità mentale e di trovare brillanti soluzioni a problemi pratici. Incontri allegri tra amici, con vivaci scambi di idee. Qualche possibile malessere psicosomatico sarà superato grazie ad un'ottima capacità di ripresa psicofisica. Leone. Armonia nei rapporti già collaudati e bellissime novità per chi cerca l'anima gemella sono le previsioni per questa giornata. Nel lavoro non adagiatevi su una visione statica delle cose. In realtà avete voglia di rivoluzionare un po' tutto. Vergine. Oggi siete particolarmente sensibili ed intuitivi. Cercate di drizzare le antenne verso ciò che di più positivo vi circonda. Dite no a qualcuno che vorrebbe coinvolgervi, però a sproposito. Non allarmatevi per lievi malesseri. Sdrammatizzate. Bilancia. Marte stimola viaggi e spostamenti, dinamizzando la vostra giornata. Il sole accende i riflettori sul lavoro. Occasioni di successo da afferrare al volo. In amore siate più ricettivi. Scorpione. L'insofferenza verso ciò che è scontato e privo di stimoli vi porta ad esplorare terreni nuovi. Gioie negli effetti più profondi e cambiamenti in vista per chi cerca l'anima gemella. È consigliabile in tutto questo un po' di relax mentale. Sagittario. Grossa carica di energie che vi spinge ad affrontare le cose con esuberanza, ottimismo. Il cielo si rasserena in campo sentimentale. Sciogliete un sospeso con chi amate, ricorrendo ad un dialogo sincero e chiarificatore. Capricorno. Possibilità di superare qualche sintomo di affaticamento che vi impediva di esprimervi al meglio. Aiuti da parte di persone che vi sono amiche, che vi offrono preziose alleanze nel lavoro. In amore cercate di vivere il presente. Troppi ripensamenti potrebbero disorientarvi. Acquario. Situazione positiva in tutti i campi. Pianeti amici appoggiano le iniziative e vi danno chiarezza nelle idee, oltre che una grande capacità di recupero. Evoluzione positiva per i rapporti sentimentali. Ci sarà un malinteso da sdrammatizzare. Pesci, spirito d'avventura e voglia di vivere esperienze nuove. Atmosfera serena in famiglia. Oggi qualcuno vi chiederà un consiglio. Siate disponibili ma usate prudenza. Curate di più la vostra dieta. Grazie a tutte e a tutti. E domani ancora un altro appuntamento con la fortuna, con l'oroscopo e l'almanacco. A tutti voi, buona fortuna.